Pensavano di averla fatta franca dopo aver sottratto a Termoli qualche giorno fa ai legittimi proprietari all'interno di un casolare di campagna due moto Honda ma l'attenzione dell'arma in particolare nei confronti di questo genere di reati predatori è sempre alta infatti militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Termoli ponendo in essere una rapidissima attività info investigativa hanno scoperto la malefatta rinvenendo a Campomarino i motocicli rubati. Gli autori del furto sono stati individuati in un sedicenne e un quindicenne del posto entrambi deferiti alla procura della repubblica presso il tribunale dei minorenni di Campobasso per il reato di furto aggravato in concorso. L'ex sindaco Antonio Di Brino ha convocato la stampa con l'obiettivo di far conoscere i riflessi e le ripercussioni a detto a seguito dell'approvazione del bilancio che prevede aumenti esorbitanti e pressione tributaria senza precedenti con aumenti vertiginosi delle tariffe in particolare di Tasi e Tarsu. Ma c'è di più per l'ex sindaco ci sono dei vizi che renderebbero il documento non valido e scattato quindi l'esposto alla Corte dei Conti. All'atto dell'approvazione del bilancio ha detto il consigliere di opposizione ci devono stare una serie di allegati che vengono anche stabiliti dal testo unico. Il 21 agosto con delibera 218 la Giunta approva il bilancio ma non inserisce gli allegati previsti dal testo unico che riguardano tutti i tributi e le tariffe. Gli allegati sono stati inseriti nella proposta di consiglio che la struttura ha predisposto il 28 e 29 agosto. Tutto questo secondo Di Brino ha comportato delle privazioni per i consiglieri. Il regolamento di contabilità ha previsto che il momento di approvazione del bilancio da parte della Giunta è il giorno dal quale tutti gli allegati devono essere messi a disposizione e dentro dieci giorni c'è la possibilità di presentare emendamenti. Ma è stata tolta ha detto Di Brino la prerogativa dei consiglieri comunali di presentare degli emendamenti. Ma per Di Brino c'è anche un secondo vizio. La delibera legata è obbligatoria come il piano delle allineazioni. Il comune ha detto l'ex sindaco doveva fare la ricognizione di tutti i beni e i valori dei terreni e degli immobili. L'amministrazione ha preso due immobili che sono la Schweitzer e il Nautico che però per essere alienati non possono più avere delle funzioni istituzionali. Eppure è stata legata a una delibera che ha definito il piano delle allineazioni.